Mamma mia ragazzi, incredibile, sta succedendo di tutto, qualcosa di inimmaginabile, soltanto fino a qualche ora fa siamo in giorni davvero di shock, shock, forse sì, questa first reaction shock, 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 shock ragazzi, ma che cosa sta accadendo nel mondo del calcio e nel Milan? Vi ricordo prima di iscrivervi in questa zona, attivate la campanella ragazzi, lasciate un like, credo che per la maggior parte sarete contenti di quello che vi sto per dire, sapete che il tema sicuramente principale è quello della Superlega con il Milan nei 12 club promotori, ma sta accadendo un po' tutto il castello, Siamo a una serie di botte risposte incredibili, Seferin molto duro ieri, oggi dice siete ancora in tempo a fare un passo indietro, infantino della FIFA che dice dentro fuori, chi partecipa sarà duramente punito, poi però il tribunale di Madrid sostiene che non ci possa essere impedimento da parte di FIFA e UEFA per i club impegnati, quindi siamo già nei tribunali. Però voci indiscrezioni che arrivano già da questa mattina dall'Inghilterra raccontano di due club inglesi che si starebbero per sfilare, si radunano, meglio viene convocata una riunione da tutti i capitani della Premier League, con molti club che attraverso i tecnici o i giocatori si sono detti perplessi, lo stesso Guardiola del City che è in questa Superlega dice no così non va bene, Klopp aveva detto questo non è il vero calcio, Cross del Real Madrid che ha il presidente della Superlega che è il presidente del Real Madrid dice allora forse è una buona occasione per ritirarsi, ebbene nel frattempo in questi minuti sta per iniziare una videoconferenza con i presidenti dei 12 club tra cui ovviamente anche il nostro caro amato Milan e il tema è probabilmente sciogliamo questa Superlega nata un paio di giorni fa già oggi, già in queste ore in bilico, terribilmente in bilico e crollerebbe tutto con le conseguenze che adesso vi diciamo, i club che non sono più favorevoli sono il City, il Chelsea e il Barcellona in Spagna, quindi 3 su 12 e si vocifera anche l'Atletico Madrid, 3-4 su 12, se escono queste 3-4 cade, crolla tutto, prima ancora di nascere quasi verrebbe da dire. La mia prima impressione, il mio primo pensiero è Emilio Fede che spesso fanno vedere a Striscia la Notizia dire che è figura di M, questa è una figura se confermata, se la direzione è quella di far saltare tutto, è una grande figura di M, non voglio completare la parola, è facilmente intuibile. Ho un po' il polso con voi cari amici di Milanello, adesso parliamo delle conseguenze sul Milan, ho un po' il polso con i commenti, devo dire che un 85% di voi era contro alla Superlega, un 15% invece favorevole. Personalmente sono sempre stato un po' perplesso, non ho dato la mia sentenza perché prima avrei voluto avere in mano tutti gli elementi. Pensavo, questi della Superlega chiedono 100 per però poi accordarsi e ottenere 70. A questo punto però non sono più nelle condizioni di chiedere 100 da quello che stiamo capendo e non avranno neanche 70, anzi sono in una posizione molto 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 debole. Il Milan purtroppo è dentro, purtroppo rischia anche il Milan di fare questa figura non bella, sicuramente Florentino Perez e su tutti Andrea Agnelli ne escono con le ossa rotte, Andrea Agnelli indipendentemente da come andrà a livello di immagine, dopo le parole di Seferin, ne esce disintegrato, ma davvero una posizione debolissima a livello europeo. Ci siamo anche noi, un po' meno in prima fila. Oggi Gazzidis nella lettera agli sponsor diceva non vediamo l'ora di dialogare e collaborare con FIFA e UEFA, quindi una posizione un po' più cauta rispetto a Juve e Real Madrid, ma comunque nel giro dei 12. Vediamo che cosa succede però, si va probabilmente verso un clamoroso dietro Florent, clamoroso a dir poco. Ce la faranno pagare, è la prima domanda, spero di no, credo di no, però intanto si è creato un clima brutto. Domani il Sassuolo avrà gli occhi avvelenati, De Zerbe ha detto che non vorrei neanche giocare, andando oltre, però sicuramente giocheranno con il coltello tra i denti ancora di più, per far vedere che lo sport si giudica in campo e non dai soldi, proveranno a fermarci e ci aspettiamo poi eventualmente De Zerbe che figura, ti apriti cielo. Abbiamo anche una situazione di emergenza importante, domani mattina vediamo quali saranno gli sviluppi. In ogni caso, se finisce così, a maggior ragione, è una parentesi breve, della quale avremmo fatto volentieri a meno. A livello europeo stavamo tornando, poi non credo che ce la faranno pagare. Domani comunque avremo Alvar Seferin, al arbitro infantino, no, sto scherzando, però a livello geopolitico, se finisce così, a maggior ragione, non ne usciamo bene neanche noi. Il Milan è il nostro pane quotidiano, se finisce così, dobbiamo guardarci negli occhi e dire ma chi ce l'ha fatto fare? Ha maggior ragione, ma già prima, adesso poi, se dopo due giorni salta tutto, queste qui dodici si inescono sconfitte, chi si è sfilato prima un po' meno, chi poi rimane spettatore, impotente, un po' di più. Vediamo cosa succede, ragazzi, questo però può cambiare un po' gli equilibri, anche a livello di progettualità. Ragionando insieme a voce alta, la Juventus, se non andrà in porto questa Superlega, i suoi debiti dovrà, in qualche modo, andare a coprirli in altra maniera. La seconda squadra di Milano, adesso, che succede? Adesso facciamo i conti, giustamente. E Zang che cosa fa? Prima pensava di cedere tra un po' perché avrebbe incamerato tanti soldi. Il Milan, Il Milan che magari con Elio puntava molto a questo per migliorare anche la PIL, dovrà fare delle scelte, andare avanti su questa strada, oppure magari accelerare una cessione, visto che salta questo progetto. Insomma, è qualcosa, progetto che non è nato l'altro ieri. Ufficialmente sì, ma ci pensano, ci parlano già da tanto tempo, anche più di un anno. Vediamo cosa succede, la svolta è clamorosa, la direzione devastante, sorprendente, è che rischia di saltare tutto in due giorni, con un potere a quel punto clamoroso, nelle mani di chi è rimasto fuori, della FIFA, della UEFA e di quei club che non hanno aderito. Questo è chiaro. Che cosa pensate? Scrivetemi nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi qui, se non l'avete ancora fatto. Ora vi rimando al video bomba di questa mattina su un'indiscrezione importante di mercato. Ciao, pazzesco.